Buon pomeriggio, sono Michele. Ciao Michele. Enzo, volevo chiedere a voi giornalisti e a tutti i tifosi, se con i mezzi che ci sono oggi, anche con un vecchio piccolo viaggiatore, riusciamo a mandare un messaggio a due personaggi, non so se li conoscete, un certo Meyer, Canne e Gran McCabe, rispettivamente sono il Presidente e l'amministratore delegato della Sad Miller, non so se conoscete questa azienda. Beh, immagino roba seria, molto grossa insomma. Beh, la Sad Miller è un'azienda che fattura 18 miliardi di dollari e con 70 mila persone che lavorano per questa azienda e per l'esattezza produce quello che tanto i baresi amano, la Peroni, è un'azienda sudafricana che ha rilevato la Peroni, quindi comunque quale miglior prodotto Mi stai dicendo una cosa nuova, è una bellissima idea la tua. Se riuscissimo in qualche modo a raggiungere questi due personaggi con… Non è che possiamo trovare un indirizzo email, qualcosa… Eh, per questo… Senti, manda a tbsport.chiocciolibro.it esattamente le coordinate, nome, cognome, discorrendo, poi voglio dire, vediamo un po' che cosa si può fare, perché in effetti la tua idea è molto interessante, molto suggestiva. Insomma, chi produce la birra Peroni credo che sia quasi naturalmente il tifoso della nostra squadra di calcio. Può essere un'idea, mi piace, mi piace. Grazie. Quindi è che la dimostrazione, come non è vero che a Bari si è perduto l'entusiasmo, sì c'è freddezza perché naturalmente ognuno si sente tradito, ma tu ci pensi che io mi sono sentito male e mio figlio mi ha accompagnato a cassa dopo l'autocolle che ha fatto quel… non lo chiamiamo neanche giocatore a favore del Lecce e oggi vanno ancora chiedendo qualcosa, vediamo di patteggiare. Se la giustizia sportiva vuole essere così clemente, io dico che dovrebbe intervenire la giustizia ordinaria, perché a questa maniera che esempio diamo ai nostri giovani, ai nostri figli, ai nostri nipoti, che esempi diamo? Dicendo, quello che ha buttato la… che ha fatto esplodere quella tragedia a Brindisi stamattina ho letto, dice beh io quando devo uscire? Esatto, non capisco niente il caso di me, ma è proprio non riesco più a connettere, forse è passato, sono in un altro pianeta, forse sono una moneta fuoricorso, sarò tutto quello che volete, ma io non mi trovo più a se dire certe cose. Quello che dice di aver fatto polpette o imbrogli e poi viene chiamato alla televisione, Canale 5, Rai, Sky perché devo discutere. E non stanno, quella devi mettere in galera e devi mettere. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Roberto Dabari, un saluto al professore. Ciao, ciao. Enzo, due cose. Prima di tutto, se si sa qualche cosa sull'iscrizione al campionato della prossima stagione, perché qui stiamo parlando di grandi discorsi. L'iscrizione secondo te sarà certa per il prossimo campionato? Ma si sta battendo quel bravo uomo di Garzelli, si sta battendo, sta cercando in tutti i modi, perché può darsi che all'inizio della prossima settimana, da quello che so, tu lo sai che non seguo le faccende della società, ma quelle della squadra in se stessa, so che devono ottenere il placet per la dilazione di pagamento, che poi dopo tutto si tratta di pagare un milione all'anno, non è che è una cosa da semplice, un milione, se torniamo di nuovo indietro e aboliamo l'euro, sono due miliardi. Questa è la prima domanda, sì. Poi l'altra cosa è, sempre sulla cosa che diceva il telespettatore che ha chiamato prima, è difficile che un imprenditore o degli imprenditori dall'estero si possano interessare al Bari, se c'è la più completa diffidenza, non c'è trasparenza in questa trattativa, non si capisce bene. Però posso dirti una cosa, se si avvicina, facciamo un esempio, voglio provare a sognare con voi, se si avvicina il signor Peroni, voglio dire fondamentalmente, anche se la Peroni è italiana, poi viene prelevata come spesso accade, però se si avvicina, io credo che in Matarese gli stendono un tappeto rosso, voglio dire, credo che dipenda anche dall'interlocutore fondamentalmente, quello porterebbe sicuramente ad un buon esito della trattativa. Io voglio ricordare un'altra cosa, che oggi iniziano gli europei di calcio, per chi ci segue in diretta, credo che la partita sia Polonia-Grecia, ma in questo clima da campionati europei, nazionale, compagnia bella, uno dei nostri sponsor, la Global Rigenera, ha praticamente dedicato queste maglie ad Antonio Cassano, a Fantantonio, guardate che belle maglie, e oggi ne mettiamo due in premio ai nostri… Tutte e due a Fantantonio? Fantantonio, sì, due come premio a chi saprà rispondere alle domande di storia del professore Antonucci, quindi nella seconda parte preparati… Le facciamo facili? Vogliamo far vedere? Devo chiarire, cioè più che chiarire, devo far sapere al buon Francesco Monteleone che cosa abbiamo ottenuto nei tre campi di calcio che finora il Bari ha affrontato. Sarà contento Francesco. Vogliamo vederlo dopo la pubblicità? No, no, se riusciamo, se abbiamo già le immagini lo farei adesso. Ecco qua la statistica Gianni, tutta per te. Vediamo il primo piano così riusciamo a… Ecco qua, questo è lo stadio San Nicola, abbiamo 417 partite, abbiamo giocato fino all'ultimo con il Gubbio, sempre in casa ovviamente, le vittorie sono 164, pari al 39,3%, i pareggi 148, pari al 35% e le sconfitte 105, pari al 28%. Non un granché diciamo, non è un granché, perché ora te ne accorgi, attraverso… Andiamo avanti. Parolo, devo essere chiari, è vero che il Bari ha giocato un po' di campionati in casa, in Serie A è più difficile magari vincere, insomma, però una sconfitta su quattro partite è un po' tanto in casa. Al San Nicola di Serie A ne abbiamo esattamente 10, però allo stadio della vittoria ne abbiamo esattamente 30, 30 sono di Serie A, meno 10, 20, meno 2, 18, 18 camminati di Serie A. Questa è lo stadio, guarda che differenza, però ha ragione Monteleone, la differenza è abissaria. Non solo, ma sappiamo, però 945 partite, dal 34 al 90. E la percentuale quella che conta? La percentuale è il 55%, cioè più di una… invece i pareggi 371, le sconfitte 145. Ecco, vedi, queste cose a me piacerebbero, i giornali, invece di stare a fare l'intervista a TGH, che poi sono sempre le stesse cose, tu immagini che viene uno, viene tesserato dal bar e tu lo vai a intervistare, che ti dici? Ma non voglio venire in questa cacata di città, non è vero, non lo dici, allora è sempre bene, sì, sono contento. Andiamo avanti con l'altro, un momento, abbiamo la terza poi, che è quello il campo degli sport, l'abbiamo, l'abbiamo… C'è anche il campo degli sport? Sì, eccolo qua, eccolo qua. Non ci sta? Sì. Ah, ecco, questo è un fortino. Qui abbiamo addirittura, andiamo oltre, anche perché, vedi, al campo degli sport, nonostante tutto, sono stati giocati due campionati di serie A e cinque di serie B. Dove era il campo degli sport? Attaccato alla carcere. Quello che è stato, Area Palmiotto, anche il campo di Palmiotto, lo stesso? No, 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 il campo è dove sta la mediana ora, che si passa e viene a dirgli, si viene fino a Telebari. Tu sei stato a questo stadio, sì. A voglia. Quanta gente poteva andare in questo stadio, in questo campo? Arrivevamo sui 15.000. A 15.000, quindi c'era… Il massimo è stato 12-13 in occasione di un Bari-Bologna, Bari-Juventus, come sempre. Come si vedeva la partita, attaccato al campo? Eh vabbè, allora perché vincevamo? Eh questo, mi hai messo curiosità, possiamo rivedere un attimo il campo dello sport? Guarda, guarda com'era. La tribuna è coperta, la tribuna è coperta, è sul campo, vede la linea? Dai, fantaisa. Ah, tutta la godevi la partita, non il mo' camo, ma c'è il binocchio, ma c'è. Pubblicità a tra poco. Grazie. Grazie. Grazie.